Slitta per il terzo anno di fila le cotasse in Puglia, via Capruzzi ha risparmiato la stangata sui comuni Canaglia in tema di raccolta differenziata. Pagheranno il minimo di tassa sui conferimenti in discarica, 5,17 euro a tonnellata, i centri virtuosi che toccano il 65 per cento di raccolta annuale. I ritardatari, ma in regola con gli obiettivi stabiliti nel 2014, non subiranno aumenti se miglioreranno del 5 per cento il dato a giugno prossimo. I comuni ritardatari invece dovranno raggiungere il 7 per cento per evitare le multe. Su tutti ricadrà l'obbligo di introdurre buone pratiche per ridurre la produzione di rifiuti, sì alla legge di gioia sull'uso delle coste che passa per un solo voto di scarto tra le proteste dei sindacati dei balneari in crisi. Il rilascio delle concessioni d'ora in poi toccherà ai comuni che dovranno munirsi di un piano ad hoc entro quattro mesi, pene il commissariamento. Le nuove concessioni demaniali saranno affidate con gara pubblica, vietato il subingresso nella gestione dei lidi e prevista una sola possibilità nell'arco della concessione trentennale. Via Libera pure al pacchetto agricoltura con nuove regole per vendere i terreni della riforma fondiaria e utilizzare le acque sotterranee. Infine il consiglio regionale ha istituito il garante per i diritti dei disabili.